Il fatto del giorno, l'appuntamento con la notizia ed il commento di Contatto Lab e TV7 Avellino. I tecnici di laboratorio che effettuavano le analisi per controllare il livello di inquinamento della solofrana truccavano i dati, falsificavano i dati e quanto hanno scoperto i carabinieri. Questa è la notizia che campeggia su tutti i giornali e di cui ci occuperemo oggi. Il corso d'acqua di Solofra, che quindi passa nei pressi del nucleo industriale della cittadina della Concia, delle Pelli, è stato più volte al centro dell'attenzione. Troppo spesso agli allarmi dei comitati civici sono giunte però risposte da parte delle istituzioni tese a gettare acqua sul fuoco. Ma i dati che emergono oggi, i fatti che emergono oggi lasciano da pensare e accendono un campanello d'allarme. La questione dell'inquinamento è una questione centrale per tutti i territori, a maggior ragione per un territorio come quello della provincia di Avellino, un territorio verde che rischia però troppo spesso di essere minacciato. Ma inquinamento significa anche salute dei cittadini, oltre che salubrità dell'ambiente e del territorio. Bisogna dunque trovare, e ci sono anche tutte le possibilità oggi con le tecniche più attuali, il modo per ridurre al massimo l'impatto delle lavorazioni e delle produzioni sul territorio stesso. E' questo quello che deve essere l'obiettivo delle istituzioni, degli enti locali, ma anche di chi fa impresa. Il polo industriale della Concia, di Solofra, è certamente una realtà importante, importantissima, nell'economia irpina, anche se purtroppo anch'esso è in crisi. E però bisogna distinguere le lavorazioni, i processi lavorativi, soprattutto in termini di capacità di integrarsi con il sistema. E all'interno di questa questione c'è sicuramente l'impatto ambientale. Bisogna impegnarsi, fare fronte comune per limitare i danni al territorio, anzi tentare di prevenire i danni e conservare l'ambiente. E' questa la lezione che più o meno ci viene dal fatto di oggi, ma anche la necessità di controlli più accurati e di comprendere che troppo spesso gli interessi privati vengono posti dinanzi all'interesse pubblico.